Con la versione più potente in destino e al contempo la più ecologica, Opel punta a conquistare il pubblico più giovane. Rispetto alle varianti diesel e benzina, Corsa Elettrica mantiene in tutto e per tutto il look giovane e sportivo con le venature sul cofano e la consueta doppia colorazione. Invariata anche la firma luminosa, caratteristica che unisce lo stile alla sicurezza, grazie alla tecnologia Full LED che permette un'ottima visione della strada. Per i più esigenti è anche disponibile come optional il sistema Intellilux LED a matrice di LED, per una sicurezza ai massimi livelli. La doppia anima della vettura, divertente grazie ai 136 CV e 260 Nm di coppia istantanea rispettosa dell'ambiente, con una profusione totalmente elettrica, la rende una vettura perfetta per tutti i giorni. Grazie alle tre modalità di guida, normale, eco e sport, riesce ad accontentare le velleità di tutti. Selezionando la modalità eco si può scegliere se utilizzare uno stile più efficiente e percorrere fino a 337 km con una sola ricarica. Spingendo invece sull'acceleratore si può coprire uno scatto da 0 a 100 km orari in soli 8 secondi, assicurando divertimento che difficilmente si può trovare in una vettura di questa categoria. Grazie a tutti!